Nel 2013 il 28,4% della popolazione italiana è a rischio povertà o esclusione sociale. Lo ha rilevato l'Istat nel suo report annuale sul reddito e condizioni di vita. Secondo l'Istat, al sud il dato raddoppia. Rispetto al 2012 l'indicatore ha diminuito di 1,5 punti percentuali, ma a livello nazionale. Il rischio di povertà o esclusione sociale ha mostrato la diminuzione più accentuata al centro e al nord, mentre nel mezzogiorno si è registrata una diminuzione del 3,7% e il valore si è attestato al 46,2%, più che doppio rispetto al resto del paese. La metà delle famiglie italiane vive con 2.000 euro al mese, ma nelle isole e nelle regioni meridionali lo stipendio medio di un nucleo familiare l'anno scorso è stato di 1.663 euro.